Piantala con queste stronzate, aprila al massimo. Senti, non fare lo scemo. Silenzio! Dobbiamo spaventarle, non ucciderle, capito? Che succede? Brutte cose. Tossiscono. Se tossiscono, moriranno là dentro. Non morirà nessuno, maledizione. Se cominci una cosa, vuoi avere il coraggio di portarla a termine? Mamma! Il peggio che può succedergli è perdere i sensi come se fossero ubriaco. E noi commentiamo se perdono i sensi, Junior? E riduci un po' il flusso. Ma non perderanno i sensi, i coglioni. Prima vomiteranno. Ha ragione lui, non possiamo entrare se muoiono! Resta giù e respira. Diminuisci. Diminuisci, maledizione, troppo! Non rompere con queste cazzate! Volete abbassare la voce? Ti ho detto che è troppo. Tienimi lontano, questo stronzo. Io non ammazzo la gente! Diminuisci, chiudi quel cazzo di coso! No. Chiudi l'ho detto! Mamma, un attimo solo. Mamma! Capriti con questa. Oh mio Dio. E tappatevi la bocca! Là c'è gente che vuole dormire! Non ti avvicinare. Non capisco cos'è. Chiudi subito il gas. Chiudi subito il gas. Immediatamente. Aspetta! Mediato! Aspetta! Vedrai! Brutta, brutta puttana! Vedrai che ti faccio quando entro là dentro! Ehi, la pianti di rompere il cazzo? Sì! Sì! Promettimi che tu però non lo farai mai! Neanche per scherzo! Prometto! Si muovono! Per fortuna si muovono ancora! Oh! 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 Che c'è? Prenditela con lui! Per piacere, falla finita adesso! C'è video! Oh! Oh! Tres! He, tres!